Nei giorni scorsi, il terremoto e le forti nevicate hanno messo nuovamente a dura prova tanti i nostri fratelli e sorelle dell'Italia centrale, specialmente in Abruzzo, Marche e Lazio. Sono vicino con la preghiera e con l'affetto alle famiglie che hanno avuto vittime tra i loro cari. Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza, come pure le chiese locali, che si prodigano per alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante per questa vicinanza, per il vostro lavoro e l'aiuto concreto che portate. Grazie e vi invito a pregare insieme la Madonna per le vittime e anche per quello che con grande generosità si impegnano nelle opere di soccorso. Grazie a tutti.